Cristal Motto, ti aspettavano a Piacenza, invece non arriverai, qual è il motivo? E in augusti, non era ancora così bene, quindi era il tempo di raccontare a Piacenza la situazione. E' solo vero per loro che abbiano un giusto giusto. E non mi sento che potessi dare, quando ho signato i contratti, ho planeo di dare una squadra 100%, e non potrei fare questo per Piacenza. E certo, magari è strano, ora sto giocando e cose così, ma non c'è un punto in cui posso dare un team tutto quello che posso dare. So, tomorrow abbiamo un giorno off, che è bene, quindi ho tempo di recuperare. So, io stiamo facendo progressi, ma ancora non ho bisogno di dare il team la squadra che hanno signato per.